Stefano Cappa di Modugno per il Festival Internazionale della Poesia. Io non sono chiuso in casa, ma cerco ispirazione per le strade di Parigi. A breve incontrerò la mia amica Silvia in un bistrò di Saint-Cermain-des-Prés. Ha ordinato del vino e mi ha scritto una poesia mentre mi attende. Le ho promesso che oggi pomeriggio la porterò su a Montmartre a vedere un tramonto, a vedere il tramonto. Non sono tanto bravo a mantenere le promesse. Però a Parigi mi riesce tutto più facile. La sua poesia diceva «Torneremo a Parigi ogni volta che pronuncerà il mio nome». Ciao.